un saluto a tutti i miei ragazzi vai ripresa a voto zero anche questo è venuto bene questo l'ho preso bene Fabiani che mi ha beccato giusto con lo giro il chiesolo l'ho preso bene questo facciamo il primo gag io ho questa carica di mister oggi dai cominciate a cambiare un po' Fabiani esci 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 è entrata è gol che fai bravo 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 ma che fai il voto grande io ho filmato questo ma tu lo farò sai se mi è riuscito per il voto Tony che bello che bello che bello bravo Lorenzo che cazzo ti butti a fare si butta si butta eh tanto ma cacicchini eh ma lascia vieni fra ti fa più ha fatto più danni della grandine eh facci un commento facci un commento mi devo dire fammi una domanda va è stata una vittoria tranquilla scioltezza un bel gioco bravo cazzo hai quello il finale? no non l'ho ripreso e cazzo sei venuto a fare non puoi neanche il finale mi ha portato neanche le 5 taglia 1 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 taglia 1